Produzione di castagne ridotte all'omicino anche per i castanicoltori mendicinesi causa attacco da cinipide galligeno che sta lasciando a bocca asciutta. Un insetto insidioso che blocca la produzione del frutto del castagno, quello contro cui si sta intraprendendo una vera e propria lotta, sostenuta anche dall'esperta Vincenzina Scalzo dell'Arsac. Un incontro tra di loro dunque nei giorni scorsi, promosso dal circolo mendicinese del PD e che si è svolto nella sede del Centro Culturale Don Ciccio Tenuta di Mendicino. Nel corso del confronto la Scalzo ha dato ai castanicoltori tutte le informazioni utili per il contrasto al dannoso insetto. Illustrare la biologia di questo insetto e poi l'approccio di lotta che abbiamo avviato da qualche anno qua in Regione Calabria. Un approccio di controllo biologico di questo insetto, quindi sono due anni che abbiamo introdotto un antagonista naturale, un parassitoide larvale che si nutre a carico delle larve di questo insetto dannoso per il castagno. Sollecitare i castanicoltori innanzitutto a non abbandonare i castagneti, malgrado la situazione sia problematica, malgrado in questo momento riescono a raccogliere ben poco, però è un momento in cui bisogna tenere alta la guardia, non abbandonarli, curarli e avere delle accortezze per favorire l'insediamento di questo insetto utile nei nostri castagneti e poi la natura farà il suo corso e quindi nel giro di qualche anno, come è già avvenuto in altre regioni italiane che hanno già affrontato la problematica prima di noi, il problema piano piano si avvierà a soluzione. Effettua tigialanci della sorta di siero anticinipide che però mostrerà i primi risultati solo a distanza di tempo. A sostenere i castanicoltori nella lotta alla cosiddetta vespa cinese, il consigliere comunale del PD di Medicino Francesco Gervasi, che aveva intrapreso la battaglia già da assessore alle attività produttive. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, lo ha detto pure la dottoressa Scalzo, dobbiamo insistere in questa strada e intanto iniziare una forte azione di informazione sul problema, su come deve essere affrontato, su come già si sta affrontando in altre regioni. Ci vuole molta pazienza perché la risoluzione purtroppo richiede nei tempi lunghi, si parla di 4, 5, 6 anni. C'è un'attenzione forte anche da parte del governo. Ne ho parlato qualche giorno fa con l'onorevole Nicodemo Liverio, che ho incontrato a Cortona, il quale ha presentato un disegno di legge in Commissione Agricoltura, si sta lavorando per fronteggiare e comunque incoraggiare l'attività castanicola. Il mio auspicio, lo dico sempre e lo ribadisco anche a tutti gli amici di Medicina, è quello che si vada verso forme associative, consociative, perché in questo modo aumenta la forza contrattuale, aumenta anche il peso del settore in una comunità come questa che potrebbe veramente investire in questa risorsa che è la castagna.